e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi siccome mi avete chiesto il setup diciamo della telecamera dell'action cam sul casco vi vado a spiegare come faccio allora fino ad ora ho usato il vecchio stile la vecchia dji osmo action di magari vi metto qua in alto destra la scheda del video dove appunto vado a spiegare come ho fatto finora qua sul lato destro del casco comunque c'è presente l'attacco gopro che andrò oggi a modificare perché come avete visto nel video di test dalla gopro si vedeva troppo casco quindi voglio spostarlo un po avanti quindi andrò a togliere quello vecchio in qualche modo magari mi aiuto con cacciavite piatto andrò a togliere solo l'attacco ok stando attenti a non rovinare casco colate che questo questo adesivo è uno dei più forti che c'è in giro quindi ok lo pulisco un attimino diciamo quindi era qua il nostro il nostro supporto andrò a prenderne uno ovviamente nuovo e andrò a metterlo un po più avanti e girato invece che così per diciamo per lungo in questa maniera dovrei riuscire ad andare a togliere quello che è la visuale del casco andrò a mettere da coso chiuso andrò a mettere da coso chiuso sto magari un po più su così così dovrebbe andare bene e avanti un bel po in più ho preso un supporto nuovo invece che andare a usare tutti i supportini proverò a usare questo è un po più pesantino però ha un buon meccanismo vedete qua potete muoverlo un po come vi pare e potete metterlo così e andrò a metterlo un po comunque spostato in avanti quindi adesso lo provo senza la gopro quindi noi possiamo metterlo così in questa maniera tenerlo dritto qua ok e qua andare a mettere la nostra gopro ecco questo qua è il media mod di cui vi parlavo magari vi lascio tutto il link in descrizione sia dell'aggancio sia del media mod sia della gopro hero 9 vi lascerò il link in descrizione io questo media mod l'ho preso su amazon warehouse ovvero amazon dei prodotti che prodotti resi diciamo che arrivano amazon e li rivendono poi vediamo è quasi in pratica va davanti non dà fastidio ok quindi ovviamente così non va bene bisogna tirare su un po la nostra gopro ok sicuramente poi bisognerà andare a provare poi in più questo è il microfono che uso di solito un microfono ad archetto che ho comprato in un negozio di articoli musicali è da in pratica quando sto usando la osmo action che uso questo microfono dovrei andare a comprarne uno nuovo anche se funziona benissimo ma almeno tenerne uno di scorta sarebbe l'ideale questo qua è una macca tac star però non so se comunque si riescono a trovare in commercio così facilmente su amazon non li ho mai trovati però io comunque cercherò e se riesco a trovarlo ve lo metto quindi stavo dicendo si va ad attaccare il microfono esterno qua qua nel mediamote c'è un microfono c'è l'attacco 3 e mezzo jack 3 e mezzo per il microfono e ovviamente poi io metto così il microfono questo questo metodo diciamo penso che sia molto comodo perché vi resta il microfono comunque vicino alla bocca avete l'archetto non avete come si chiama i lavalieri in giro nel casco così ed è comunque a livello di comodità ottimo perché ve lo mettete qua chiudete il casco se avete un integrale ve lo tirate su così ve lo mettete qua e siete a posto ok e resta comunque fermo sempre in posizione non è che si muove più di tanto quindi adesso magari vado a vedere un po' la registrazione come va mi sembra un po' giù però ok quindi qua adesso ho acceso la gopro penso che sia un po' giù come inquadratura però si può salire ancora quindi vado a salire con l'inquadratura che mi sembra un po' bassa più di così non va però al massimo possiamo salire con questo ok e così è diciamo l'inquadratura dovrebbe essere abbastanza dritta e non dovrebbe neanche comparire il casco quindi niente spero che questo video ragazzi vi sia interessato adesso devo spegnere la gopro la cosa un po' brutta che comunque con la gopro se dovete cambiare batterie dovete smontare tutto l'ambaradan e rimettere in posizione la cam però vabbè sono cose che i moto noi motovlogger sappiamo quindi ragazzi io vi lascerò tutto in descrizione spero di essere stato abbastanza chiaro questo attacco mi sembra molto ben solido molto ben fatto e comunque comodo perché potete regolare l'action cam a piacimento quindi ragazzi spero che vi sia interessato il video lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto e lasciate attiva la campanellina delle notifiche per avere informazioni e essere sempre aggiornati quindi ragazzi grazie ancora e ciao 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 Grazie a tutti.